Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi delle letture che ho fatto nell'ultimo periodo, ovvero nei mesi di settembre e ottobre. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirò mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Il primo libro di cui vi parlo è Tre gocce d'acqua, che non ho qui con me perché l'ho prestato alla mia mamma. Un libro di Valentina Durbano, anzi il suo ultimo capolavoro direi, e questo già vi fa capire quanto glielo abbia adorato, e che ho letto insomma all'inizio di settembre, se non erro, per Il club del libro. Questo libro racconta la storia di tre fratelli, capirete perché uso le virgolette. Infatti abbiamo un ragazzo che si chiama Pietro, che è figlio di un uomo e una donna che da giovani si sono incontrati, hanno avuto Pietro per l'appunto e poi hanno scoperto in realtà di non essere fatti l'uno per l'altra e si sono separati. Ognuna di queste due persone ha un nuovo compagno, una nuova compagna, e hanno avuto altri due figli. Quindi abbiamo Celeste, la ragazza che racconta la storia che stiamo vivendo all'interno del libro, e Nadir. Ecco perché dico fratelli, perché alla fin fine loro sono entrambi fratelli di Pietro, il fratello maggiore, ma tra di loro in realtà non sono fratelli di sangue perché appunto non hanno nessun genitore in comune. Quello che viene raccontato nel libro è la storia e il rapporto principalmente tra Nadir e Celeste e poi in maniera separata quello tra i due fratelli con Pietro, perché Pietro rimane un po' il punto di riferimento, è come se fosse il punto centrale di questo triangolo. La storia parte dalla loro infanzia e poi racconta la loro adolescenza ed età adulta, facendo anche dei piccoli salti temporali, nel senso che il libro inizia che i nostri personaggi sono già adulti e noi vediamo tutto dal punto di vista di Celeste, che è una donna ormai che vive da sola, che ha dei problemi alle ginocchia, cammina male, poi scopriremo perché e sappiamo fin dalle prime pagine che Pietro è morto. Però chiaramente tutta la storia che racconta da quando loro erano bambini ci farà capire quali sono le vicende che hanno portato a questa età adulta. La storia principale è comunque il rapporto tra Nadir e Celeste, perché è un rapporto molto particolare che matura nel tempo. Difatti loro all'inizio, quando si conoscono, sono dei bambini e si odiano. Poi chiaramente crescendo il loro rapporto cambia, muta, si approfondisce e diventa qualcosa di molto particolare e difficile da gestire. Abbiamo un Nadir, un ragazzo che viene descritto come magro, allampanato e brutto e io ho adorato questa cosa perché è bellissimo quando si trovano dei personaggi brutti. Anzi, non è credibile che in un libro tutti siano belli. Quindi, insomma, ho apprezzato molto questo dettaglio. E Celeste, che invece scopre fin da bambina, quindi lo sappiamo subito, non è uno spoiler, deve avere una malattia alle ossa, quindi quella malattia che viene definita delle ossa fragili, ossa di vetro e quindi è una bambina, poi ragazzina e poi donna, che va tenuta, diciamo, quasi in una bolla di protezione. Io ho adorato questo libro, credo che sia un vero capolavoro, anzi vi dirò che è una delle letture più belle che ho fatto quest'anno, perché quest'anno ho letto dei libri brutti, 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 ma anche dei libri belli, belli, belli e questo sicuramente rientra in quest'ultimo gruppo. Valentino Durbano è bravissima a descrivere i sentimenti a livello della pancia, cioè io vi garantisco che le sofferenze, le pene d'amore adolescenziali, che ormai per me sono lontane anni luce, io le ho riprovate leggendo questo libro, ma non racconta solo di questo, racconta anche dei momenti belli, intensi, di vicinanza, di amore fraterno e il classico tipo di amore tra un uomo e una donna e anche questi trovano verità, trovano una realizzazione nelle sensazioni che proviamo. Ci sono le descrizioni non solo di questi personaggi del loro rapporto, ma anche delle vacanze estive, c'è il racconto degli inverni lunghi a Roma, c'è il racconto anche di come fare a trovare la propria strada, perché i tre personaggi tutti in maniera diversa trovano la loro strada e in periodi diversi della vita. Ho apprezzato anche il fatto che questo libro ci ricordi quanto nessuno è totalmente buono o totalmente cattivo. Ci sono personaggi che noi, per i quali simpatizziamo, che poi diventano crudeli e ci troviamo ad odiarli e alla fine riusciamo di nuovo ad amare, proprio perché questa trasformazione è credibile, non è artefatta. Quindi insomma, un libro che vi straconsiglio, complimenti a Valentina d'Urbano per questo ennesimo capolavoro. Il secondo libro di cui vi parlo e vado in ordine cronologico semplicemente è The Magic di Rhonda Byrne, credo si pronunci. Comunque di questo libro ho già parlato abbondantemente in un video apposito che vi lascio qui e nell'info box, così potrete recuperarlo. Non è un romanzo, è chiaramente un libro di crescita personale che parla principalmente di gratitudine, anzi esclusivamente di gratitudine, il potere della gratitudine. Quindi oltre a darci una panoramica su quanto sia importante essere grati nella propria vita, questo libro è un vero e proprio esercizio, perché ci sono 28 esercizi da fare per 28 giorni, molto semplici che prendono veramente pochi minuti della nostra quotidianità, ma che ci allenano ad esercitare la gratitudine, a portarla nella nostra vita e quindi a renderla parte integrante del nostro percorso di vita. Quindi un ottimo libro per chi vuole vivere più nel presente, per chi vuole riscoprire la bellezza della vita, magari proprio perché sta attraversando un periodo in cui vede tutto nero e per chi insomma ha voglia di crescere e di amarsi un po' di più. Alla fine questi esercizi li ho fatti io, li ha fatti mia sorella, la quale li ha passati a una sua amica, li ha fatti tutta la mia famiglia e la mia mamma li passa anche a sua sorella. Quindi insomma per farvi capire che visto che abbiamo avuto la prova che funzionano, poi abbiamo anche sparso la voce e abbiamo cercato di far conoscere questo bellissimo potere, questa magia anche ad altre persone. Terzo libro che ho letto in questo periodo è L'ultimo Lappone di Oliver Truc. Allora L'ultimo Lappone è un libro che non mi è piaciuto per niente, anche se in realtà quando ne ho parlato molti di voi mi avevano scritto di essere incuriositi, di conoscere il titolo mentre io non l'avevo neppure mai sentito nominare. Quindi diciamo io vi dico la mia esperienza poi valutate se invece potrebbe fare al caso vostro. La storia è chiaramente ambientata in Lapponia e abbiamo i protagonisti che sono un uomo e una donna che fanno parte della polizia delle renne che io non sapevo neppure esistesse ma in realtà si tratta di un organo che deve controllare per l'appunto le renne, quindi i loro spostamenti che non diciamo vadano ad occupare terreni che non sono i loro proprio perché le renne sono gestite da degli allevatori e la polizia delle renne deve anche gestire rapporti tra i vari allevatori che non sempre sono lisci. Perché questi allevatori vivono una vita molto difficile, fanno un mestiere molto difficile, oltretutto un mestiere che viene riscritto come tradizionale quindi che viene tramandato da generazione, di generazione in generazione e quindi loro vivono quasi tutto l'anno in delle condizioni climatiche estreme, sono molto spesso persone strane perché vivono sempre in solitudine, al freddo. Cosa succede? Succede che ci sono due crimini principalmente che sono uno il furto di un tamburo che apparteneva ad un'antica tribù lappone quindi che veniva utilizzato per dei riti particolari che quindi ha un valore economico molto grande e più o meno negli stessi giorni viene ritrovato uno degli allevatori morto vicino alla sua abitazione. Quindi prima di tutto i due poliziotti devono cercare di capire chi siano i colpevoli ma soprattutto a un certo punto si domandano se i due crimini non siano collegati. Poi nella storia andando avanti viene fuori anche una mappa di un giacimento d'oro presente da qualche parte in Lapponia che nessuno però è mai riuscito a trovare quindi si comincia a indagare su delle spedizioni fatte tanti anni prima durante la seconda guerra mondiale quindi insomma diciamo che sono tanti gli avvenimenti all'interno del libro che sembrano scollegati l'uno dall'altro ma che poi in realtà vediamo sono collegati da qualche filo invisibile. Che cos'è che non mi è piaciuto in questo libro? Il fatto che secondo me è un po' lento cioè ci sono delle lunghissime parti dedicate alle tradizioni della Lapponia, degli allevatori, storie personali dei personaggi che riguardano tempi passati insomma va bene all'inizio per farci conoscere i personaggi o l'ambientazione ma io l'ho trovata a un certo punto un po' troppo pesante quindi avevo bisogno di che ci fosse un pochino più d'azione quindi niente questa è la mia opinione se avete gusti più o meno uguali ai miei non ve lo consiglio se invece credete che un libro un po' più lento però molto particolare dal punto di vista delle tradizioni della cultura del nord del mondo del quale magari noi conosciamo veramente poco allora potrebbe essere il libro che fa per voi. Quarto libro che vi presento e vi mostro è L'acqua del lago non è mai dolce di Giulia Caminito che ha vinto il premio strega quest'anno allora l'ho preso proprio per questo perché ha vinto il premio strega e purtroppo sono non sono pienamente soddisfatta di questa lettura e mi dispiace perché so che il libro in realtà è piaciuto molto e ci sta perché voglio dire si ha vinto un premio probabilmente perché del valore all'interno del libro c'è la storia è quella di una famiglia molto particolare donna madre determinata molto severa con delle idee molto precise nella mente per le quali lotta fino allo stremo delle forze severa anche con i figli sposata con un uomo disabile e con quattro figli quindi una situazione economica molto difficile e qui c'è diciamo una una condanna una denuncia di quella che è l'assistenzialismo in Italia quindi il fatto che questa famiglia che aveva dei bisogni a livello economico molto impellenti in realtà venga ben poco aiutata e molto spesso è proprio la madre che prende un po' tutto nelle sue mani e cerca di tirare avanti con questa famiglia numerosa difatti questa famiglia a un certo punto riesce a uscire da Roma e a trovare una casetta vicino al lago di Bracciano quindi viene raccontato anche questo tipo di cambiamento quindi tutto uno spaccato degli anni 2000 del fatto appunto come vi ho detto della situazione economica di alcune famiglie l'assistenzialismo e soprattutto come anche i figli vedono tutto questo in realtà però abbiamo una protagonista che è la figlia di questa Antonia questa donna tanto importante nella vita anche della protagonista che viene insomma noi la vediamo crescere da bambina ad adolescente insomma poco più che adolescente la storia che c'è che viene raccontata quindi lo spaccato degli anni 2000 la situazione sociale eccetera rimane dietro le spalle di questa protagonista totalmente fuori dal mondo sopra le righe non realistica una ragazza che ha una vena di cattiveria di malignità a dei livelli veramente assurdi quindi trasenta la pazzia omicida quindi insomma è una persona molto molto disturbata diventa un po' predominante all'interno di questa storia che invece vorrebbe secondo me raccontare qualcosa in più ma lei si prende tutto lo spazio è una ragazza che fa delle scelte disastrose, assurde, pericolose e diciamo che quello che lei si racconta è io sono così perché me l'ha insegnato mia madre peccato che lei rovesci la frittata a suo favore nel senso che mentre sua madre lottava per la sua famiglia per i diritti dei suoi figli o per i diritti delle persone deboli questa ragazza lotta solo per se stessa per i suoi bisogni più egoistici inoltre io leggendo questo libro mi sono accorta che non mi ricordavo mai nulla cioè di tutte le sere dovevo tornare indietro riguardare quello che avevo letto chi erano i personaggi, i nomi non mi ricordavo niente ho pensato fosse perché ero in un periodo un po' stressante della vita magari ero un pochino affaticata stanca la sera quando leggevo in realtà io adesso sto leggendo un libro che ha un'enormità di personaggi e un sacco di situazioni eppure io sono anche in un periodo in cui veramente non ho un minuto per respirare eppure io mi ricordo la storia benissimo quindi questa non mi rimaneva proprio attaccata alla pelle mi dispiace però con me non ha funzionato cioè in confronto a un'altra autrice italiana giovane come Valentina Durbano e il suo tre gocce d'acqua sicuramente il premio secondo me l'avrebbe vinto Valentina Durbano ultimo libro letto nell'ultimo periodo è Sharp Objects di Gillian o Gillian Flynn l'autrice dell'amore bugiardo l'ho letto per il del libro e sono felice di potervene parlare mi è stata tratta una serie tv quindi so che molti di voi l'hanno vista e vi è piaciuta molto e ci credo perché anche l'ho iniziata è veramente carina il libro insomma ha dei difettucci la storia è quella di una ragazza la protagonista che vediamo qui in copertina giornalista che torna nella sua città d'origine per scrivere degli articoli sulla morte di due bambine avvenute a distanza di pochi mesi l'una dall'altra bambine di 13 anni ritrovate appunto strangolate, uccise e alle quali sono stati strappati tutti i denti la polizia sembra brancolare nel buio e lei niente si aggira per la città cercando indizi una protagonista con una storia pesante alle spalle perché lei è autolesionista cioè fin da ragazzina sta cercando di uscirne ma è sempre difficile per lei comunque da ragazzina si tagliava cioè diciamo che incideva delle parole sulla sua pelle secondo me Gillian Flynn ha scritto molto meglio l'amore bugiardo questo si vede che è il suo primo libro e secondo me ci sono tanti difetti ve ne dico soltanto alcuni personaggi troppo sopra le righe cioè sono tutti dei pazzi strampalati e troppo cioè va bene uno o due ma non possono essere tutti così non ce n'è uno che sia una persona normale situazioni inverosimili io mi sono ritrovata in dialoghi che secondo me non avevano nessun senso non potevano esistere nella realtà bisogna sapere anche dare delle sfaccettature ai propri personaggi succedono degli omicidi del genere una cosa insomma pesante per quanto questa sia soltanto una cittadina insomma due bambine trovate morte è una cosa pesante cioè una giornalista lei basta va bene poi vabbè ragazzini di 13 anni che fanno cose che boh io probabilmente non farei in tutta la vita insomma l'ho trovato veramente sopra le righe giusto per cioè secondo me l'autrice ha voluto mettere insieme un sacco di elementi per stupire il lettore fine e questo non va bene perché in fondo infine non serve soltanto lo scoop non è il la sorpresa o non so queste sensazioni forti a rendere bello un libro c'è molto di più quindi a me il libro non è piaciuto molto vabbè si legge velocissimo molto scorrevole eccetera poi secondo me manca quella profondità che è arrivata dopo però la serie guardatela perché è carina bene ragazzi il video finisce qui spero vi sia piaciuto mi sono un po' dilungata ma come sempre quando parlo di libri non trovo più una fine e fatemi sapere se avete letto alcuni di questi libri e se a voi sono piaciuti o meno rispetto al mio giudizio e noi ci vediamo prestissimo in un altro video ciao ciao Grazie a tutti.